Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita Oggi siamo su Hidden Deep, un gioco in uscita in Early Access il 24 di gennaio Non so ancora ovviamente come al solito il prezzo ma il gioco sembra assolutamente intrigante L'ho già giocato un paio d'ore Cosa interessante qua nel menu vedete in tempo reale il monitoraggio degli ascensori Che scendono in questa base subacquea a 1300 metri di profondità Con la relativa pressione interna e esterna e le relative temperature In che cosa consiste questo gioco? Beh, distribuito dai Daedalic e sviluppato dai Cogwell Ricorda per quello che è la grafica Barotrauma Ma di Barotrauma non ha nulla nel senso che Barotrauma è un sandbox dove vagate, insomma fate le missioni Questa è un'avventura, diciamo a parte il discorso delle sfide, dove ci sono sfide Ma qua c'è una storia e l'ha affrontato usando una miriade di strumenti Sia manuali che a motore, insomma come scavatori, gru e cose varie E al momento è possibile giocarlo in cooperativa locale e in cooperativa play remote Quindi condividete il gioco via internet con un amico In futuro, nel corso dell'early access, che durerà approssimativamente tra i 6 e i 8 mesi Quindi entro fine dell'anno, credo Uscirà in 1.0 Sarà disponibile quella online Non vedo l'ora, anche se in realtà non escludo neanche una cooperativa con IBU 90 Per quanto riguarda la parte remote play, anche per testarla Ho già fatto 3 missioni e veramente non so che cosa farvi vedere Perché si vedono cose diverse in ognuna di esse Quindi io inizio dalla prima E poi magari saltiamo alla terza In che cosa consiste? Noi abbiamo il nostro mino qui Vedete che lo muoviamo un po' come Barotrauma Ma non c'è il ragdoll fastidiosissimo E possiamo accovacciarci e abbassarci ancora di più per gattonare Col tasto destro attiviamo la pistola Ma in realtà non è finita qui perché vi faccio vedere fin da subito Intanto è tutto in italiano, già da ora l'udevolissima come cosa Premendo il tasto N possiamo attivare il terrascanner che non abbiamo E ci va a scansionare il sottosuolo Premendo invece i tasti numerici vedete abbiamo una sfera scanner che possiamo lanciare Sfera scanner con la B La lancio La sfera scanner va e scansiona Quello che c'è intorno E coloro dovessimo trovare dei nemici può elettrificarli Qua vedete che scendo Ha una energia limitata che vedete in alto a destra Poi che altro abbiamo? Abbiamo la pistola, abbiamo il lampino e la fune Differenza Allora beh intanto andiamo a fare un No ho lanciato un'altra di queste non mi interessa La voglio spegnere Non me la spegne Vabbè intanto Andiamo a dare un'occhiata a cosa c'è qua sotto ma non c'è nulla Ok Adesso faccio il salto In alto a sinistra vedete che c'è scritto tempo missione e personale restante Significa che ogni volta che moriamo il nostro personaggio torna in vita Ma quando fin... e verrà scalata per una persona La persona vale anche per i mezzi Quindi se dovessimo per caso guidare uno scavatore E questo lo facciamo finire in un burrone ed esplode Andando lì con un personaggio lo possiamo far rinascere Spendendo un punto di personale Adesso abbiamo raccolto una manovella che possiamo andare a utilizzare qui E poi possiamo andare a utilizzare qua Non possiamo lanciarci giù perché moriremo istantaneamente Quindi possiamo fare così Ma non è finita Perché non abbiamo solo questo Ma abbiamo anche questo che si attiva col tasto C Guardate l'animazione che lega il moschetto alla corda Mamma mia bellissimo Bellissimo Poi con uno spazio molliamo Ci avviciniamo e scendiamo Che io sappia quello è un utilizzo illimitato Mentre la pistola Quando la prendiamo in basso Vediamo in basso proprio sotto qui I proiettili che abbiamo Allora dobbiamo andare Allora proviamo a saltare di là Ok La cosa che non ho ancora capito È perché sarà possibile Gestire più persone Ma non ho ancora capito come fare a dare gli ordini Infatti adesso poi col tasto CTRL più 1, 2, 3 Andremo a gestire le varie persone Una alla volta Infatti ci saranno gli ingegneri Che saranno in grado di gestire i mezzi Mentre questo personaggio qui è più una sorta di marine Quindi La figata è che poi questo Questo rampino qui È utilizzabile in molteplici modi Adesso intanto Vi faccio vedere anche la bontà delle animazioni Proprio il pistone che alza la base lì Dirigite la galleria 2 In questo caso apriamo questo E ci caliamo dentro C'è la scala Quindi possiamo usare la scala E guardate anche Facendo così si scende Proprio consumandoci le mani I rumori sono veramente eccezionali Poi ci saranno i mostri I nemici Insomma Tutte le cose Possiamo abbassarci ancora di più E La missione adesso è scendere In queste profondità qui Poi si potrà anche nuotare Ci sarà l'ossigeno Bellissimo anche lo shooting L'ho trovato davvero ottimo Allora adesso Possiamo fare Vi faccio vedere Vi faccio vedere una cosa Se riesco Vedete che io l'ho presa Posso premendo No Mannaggia Non serve a nulla Però lo faccio Perché magari mi potrà servire dopo Io punto quello lì Posso premendo invio Andare a puntellarlo qui E quindi farlo diventare Una sorta di Passaggio così Ma non me ne faccio nulla Perché E poi si muore Male E in alto a sinistra Vedrete che scenderà Il contatore Siamo a 13 Secondo me non mi basta Quindi Questo mi servirà Probabilmente dopo Quindi adesso uso questo E mi calo sotto Così Facendo sempre Molto attenzione E Ci sono mostri lì Poi se Spariamo Li attiriamo Perché il rumore Li attira Qua sono morto Un numero Imprecisato di volte Intanto Vedete anche il battito Tutti i parametri Vitali in basso Ed è molto utile Quando vi trovate Di fronte a A Ecco Questo me l'ho Dimenticato Ecco Il gioco si ispira Come detto Half-Life Per quanto riguarda Questi mostri Si ispira A Voyamondo A La cosa Anche lo avete visto C'è un Una gif animata Sulla pagina Steam Se lo andate a vedere Di pubblicità Del discord E che ricorda molto I mostri Della cosa Vedete che ne ricarica Adesso è morto Perfetto Qua recuperiamo oggetti Che possono essere munizioni In questo caso Vi ho recuperato Una sessantina di munizioni E La cosa Half-Life E Alien Sono Due chiari Le due chiare ispirazioni Io non ho mai Diciamo adorato Quei giochi Eccoli che muoio di nuovo In modo molto stupido Non ho mai adorato Quei giochi Molto incanalati Come Come trama Avrei sempre preferito Il Sandbox Ma in realtà Devo dire che funziona Anche piuttosto bene Perché qua Le missioni ci vanno A far provare Svariate cose Già le prime tre Sono davvero molto varie Vediamo se riusciamo A fare Ok Bisogna fare attenzione Che l'effetto fionda L'effetto pendolo Perché se ci schiantiamo Una velocità folla Adosso una roccia Si muore istantaneamente Intanto abbiamo Consumato un po' di Abbiamo qualche problemino Con la mira Anche bello Anche la ricarica Che fa Anche quando Prendiamo il mitra Anche la ricarica Il fatto che comunque Scarrelli Prima di Ah Sparare contro le pareti Attraire le creature Quindi Attraiamo le creature C'è ancora qualcuno? No Forse no Andiamo Poi arriveremo In un punto Dove dovremo Perforare Una Una parete Con un tunnel Crollato da 20 anni Quindi ci sono tutte Tecnologie vecchie Abbiamo raccolto la Abbiamo la chiave Torna al condotto 2 E si va avanti Vi faccio vedere Adesso un'altra cosa Perché è davvero Figo Questo gioco Lo aspettavo Perché lo conoscevo Lo aspettavo da tanto Non mi aspettavo Nemmeno di Riceverlo Vi faccio vedere Ora se riesco Carica La seconda No la seconda Vabbè Sì Possiamo farvi vedere La seconda Posso farvi vedere La seconda Ma Qua dobbiamo recuperare Delle persone C'è la mappa Ecco Qua si vede Un altro strumento Che è questo Dove potete Anzi Ve lo faccio vedere Subito in diretta Voglio farvi vedere Un po' tutto Quello che ho scoperto Quello per cui Sono entusiasta Perché qua si va a recuperare Due ingegneri Che poi ci daranno Una mano ad andare via Il gioco Secondo me è anche Un non so che Di puzzle game Nel senso che Se fate gli sconsiderati E buttate via Tutto l'equipaggiamento Che avete Quali granate E cose varie Non ce la fate E il gioco ve lo dice Non sempre Quando non avete più bombe E vi serve la bomba Non ve lo dice Ma quando ad esempio Avete ucciso un personaggio Che vi serve Per finire la missione Ve lo dice E quindi Dovete Ricaricare Se invece vi bloccate Fate Sono bloccato Senza avere uscita Lui vi fa morire Vi fa rinascere Insomma E ripartite Perché non potete Uccidervi A meno che non mettiate Una bomba sotto di voi In sintesi adesso Vedete con la mappa Stiamo raggiungendo un'area Che adesso dovremo andare A esaminare E scavare E qua vi faccio vedere L'altra meccanica Quella della radar Poi di oggetti Di strumenti Ce ne saranno Una marea Da quanto ho visto Ok qua Usiamo il scanner Lo usiamo qui Vedete che scansiona Quanto c'è sotto Di profondità Direi che Il luogo ideale È qua Questo credo Perché qua sotto Non dovrebbe esserci molto E infatti Premendo la X Piazziamo L'esplosivo E abbiamo scavato Adesso vi faccio vedere Un'altra cosa Se io vado a mettere La fune La fune È utilissima Quando Voi avete Con voi Delle persone Che sono Tipo gli ingegneri E non hanno Questo sistema Di rampino Allora voi Piazzate La corda La lanciate giù Che in questo caso Non funziona E quindi Muoio brutalmente E loro la usano Mentre Passiamo All'area Il giorno 31 E siamo A un sistema Diciamo di Questa è molto interessante Questa quest Perché Non sono riuscito A finirla Perché È abbastanza Complicata Bisogna girare Un po' Esplorare Usare gli ascensori Cercare di capire Vediamo un po' Cosa fa questo Allora Prendere gli ascensori Scendere Bisogna proprio Sbloccare Con lo shift Si muove L'ascensore Ma l'ascensore Non funziona Non c'è corrente No Ma qua la luce c'è Vabbè Usiamo questo Si va giù Si riattiva La corrente E poi andremo Sì dobbiamo attivare Il sistema di controllo Degli ascensori E la cosa interessante È che poi Aspettate che Questi volatili qui Rilasciano Quei vermetti lì Che poi sono fastidiosissimi Si può andare anche A recuperare qua Dei dati Aspettate che Sistemo Non è precisissimo Nel sistema di mira Ci sono anche i computer Dove si può andare a vedere Contatto invio Contatto a supervisore Registro dello staff Password 5288 La password è Sempre uguale Almeno È uguale All'altra partita Che avevo fatto io Vediamo un po' Control elevator 5288 Password inserita A me poi le porte Che si aprono così Fanno assolutamente Impazzire Sempre Sono malato Io di queste cose Ce la faremo scendere? No Però siamo un po' Leggermente vivi Insomma abbiamo buttato via Una vita Dei 13 restanti Spesso i codici Si trovano Nei registri Sì sì lo so Lo so Vi ho appena trovati Scendiamo giù Voglio farvi vedere Solo la figata Dello scavo Perché qui è Veramente Bellissimo Adesso qui c'è una perdita Quindi si va Così Potrei usare la scala Usare la scala Giusto per non Poi imparerete Insomma Io non ho ancora imparato A non morire In modo Non evitare di morire Ok Di morire in modo stupido Giù E attiviamo No disattiviamo Ancora arrivo Ha mollato anche un vermetto Dai Attiva questo Ok Quello vermetto lì Non voglio buttare via colpi Inutili Dai Ai sali Ed essendo guidato Dalla storia Risulta essere Meno dispersivo Rispetto a un barotrauma Dove Ok Avete delle missioni Circoscritte In alcune zone Ma Poi magari Non sapete cosa fare Cosa dovrei fare Mi ha ucciso E vabbè Continuiamo a perdere Personale Ma va bene Poi come cura A livello di Grafica Di animazioni Sonoro Veramente eccezionale TV1 E TV2 E già che ci sono Mi recupero anche Delle cose Non posso recuperarle Queste perché sono pieno Ora le scienze Funzionano Il tuo compito Ehm Dare Ok Dovevo recuperare Un disco dati Disco dati che avevo recuperato Nella Nella missione Che ho fatto Ieri Non sono riuscito A completarla Questa missione Perché comunque Mi mancava un codice Non l'avevo ancora trovato Però Non è questo Che io voglio farvi vedere Ma La cosa che mi ha fatto Davvero Davvero impazzire E La L'utilizzo Degli ingegneri Adesso qua Chiamiamo l'ascensore Intanto vedete Che la mappa Si sta completando Perché a breve Conosceremo anche Gli ingegneri E gli ingegneri Ci permetteranno Di Vedete Usare Quell'affare lì Mamma mia Allora Si può andare giù Vedete che si chiude E poi Gli date la direzione E andate avanti Ok Andiamo Questa è la Profondità massima Che si può raggiungere In questo livello E qua C'è il ponte Il ponte Lo potete sollevare Vedete che Intanto Tutte quando si avvicinano Che è difficile Mirarli Allora Il ponte Vedete Lo potete sollevare E c'è un motivo Per cui lo si può sollevare E lo scopriremo A breve Adesso Dobbiamo andare A incontrare Gli altri membri Della squadra Gli ingegneri Così vi faccio vedere Anche l'ultima volta Questa è la porta Che non sono riuscito Ad aprire Perché c'è un codice E non credo sia 5288 E questa è la fine Della missione Qua sopra c'è un agamu Da poter usare E andando nella mappa Trova l'area Quella lì E quindi dobbiamo andare giù Quindi In questo caso Apro E vediamo se riesco A usare Eccola qua Ok Abbiamo trovato l'area È rimasta isolata Sappiamo che il cavolo È avvenuto 25 anni fa Ok Scava usando la talpa meccanica Ok Ci sono stati Ci fideranno adesso Due membri Della squadra Credo Due ingegneri Mi sta mandando due ingegneri Dovrebbero arrivare a breve Ok Sono arrivati Ok Posso fare Shift 2 E Shift 3 Vedete Li posso controllare Anche loro Sono adattati di pistola E li mando a fare Quello che devono fare Quindi C'è un modo Di dare gli ordini Ma onestamente Non Non saprei Cioè vedete Select order Tap there Direction Shift Per tutti E gli dico di andare di là Però vedete che Lo fa lui Ma non lo fa l'altro Quindi dovrei farli salire entrambi Poi in cooperativa Non si pone il problema Però Adesso Dovremmo andare A prendere Si può salire Si può salire ancora di più No Sala garù Vedete Dobbiamo andare Alla sala garù Si può andare su ancora Di più No Bisogna andare giù Per forza Credo Eh bisogna aprire quella porta lì C'è poco da fare Però non so come Aprirla Insomma Dice di Scava fino Usando la talpa meccanica Ok Niente Adesso cercherò di arrivare lì Cercando di capire Perché l'ingegnere Dovrebbe avere Comunque Un po' più di Materiali Non ne ha Perché ha solo la pistola Però è in grado Di usare I macchinari Quindi a questo punto Io Uno Lo tengo qui Mi prendo l'altro E vado giù E vediamo se Perché andando su Non riesco a fare niente Da qua Dovremmo poter guidare Il mezzo Quindi Vedete che Lui attiva il suo Però il codice Io non lo so Onestamente Quindi Niente Andiamo a recuperare Vediamo con il tasto Uno Se può tornare su E dare una mano Anche lui Vedete che Rimbalza Sulla Sulla parte lì Quindi è Faccio così Mi faccio Aprire dall'altro Così faccio Tornare su Anche lui Vediamo se posso Fare così Vediamo se si può Vedere qualcosa In cima Sì lì c'è un altro Ponte In alto Che però Va Va disattivato Perché noi siamo Qua al momento E bisogna andare su E dove c'è Il due Lui può Può apparire La La porta Quindi Cercheremo di studiare Ci rivediamo qua Tra poco Quando riuscirò A farlo Insomma Ok no C'erano i controlli Della porta Ok sono un pirla Io perché l'ho appena Aperta con il computer Qui sono Sono un pirla Non mi ricordavo Che era possibile Aprire la porta Ora Vedete che Lui può salire Mentre L'altro Può andare Tranquillamente A prendersi Il controllo Della gv In questo caso Però servirà Apparire Questo Prendere La gv Allargare Questo Chiuderlo E andare Qua In zona E caricare Il mezzo Quindi Prendiamo col tasto 3 Lui Che vedete guida Lo faccio salire Ma tutto Terrà conto Comunque Della fisica Quindi Torniamo a controllare Lui Lui lo solleva Ma dovremmo fare attenzione A non farlo oscillare Troppo Perché l'oscillazione Non fa bene Vedete che muove Il mezzo Faccio spostare In modo che va Dritto dritto Lo facciamo abbassare Fino al punto di Oh cazzarola Devo prendere Il 1 E glielo faccio Abbassare Riprendo Il 3 No il 2 Scusate Lo riabbasso Di nuovo Ho ciò che fa leva Uh che si inclina Ok Ok Buon Lo mollo Beh lo lascio qua Tanto L'agro non mi serve Posso andare A riprendere lui Che accenderà Ora la macchina Scavando La roccia E andando giù Cioè guardate Il dettaglio Anche solo La lucina sopra Che lampedio Già Adesso lo spengo Così diventa più agevole Mancherà i pistoni Di movimento Proprio bellissima Come cosa Siamo arrivati qua Con la talpa meccanica E ovviamente Bisogna fare attenzione Adesso che Non Non si può più andare avanti E adesso vedete Anche solo Il fatto che buttiamo via Il Beh intanto Qui È l'uscita Ma non so come farla Perché Non ci sono Non ci sono Modi Di 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 Sintesi Vi ho mostrato Tutto quello Che io ho scoperto Tutto quello Che mi è piaciuto Del gioco Mi fa davvero impazzire Questa cosa Della Della gestione Dei Dei mezzi Il fatto Dell'utilizzo Della gru Il fatto che Vabbè L'ingegnere è l'unico Che può guidare i mezzi Non posso guidarli Con il marine Adesso si va Si scende Si esplora Anche quest'area Che comunque È sepolta Da 25 anni E non ha Alcuna alimentazione Ci sono Anche delle zone Radioattive Che poi è possibile Non so Esplorare Proprio rischio Qua vedete Non funziona niente Quindi non possiamo Neanche attivare La cosa difficile Da capire È che quando Noi attiviamo Il rampino Non ci possiamo muovere Cioè io pariamo i tasti Ma non si muove E quella è una cosa Che all'inizio Fa pensare a una macchinosità Nel sistema di controllo Ma in realtà Non è così Ma è Dovuto a motivi Ben precisi Attenzione però Qua Io potrei avere Ah eh no Qua ci avrei messo Un esplosivo Anche con una scansione Vedete sotto Che c'è una galleria Ci avrei messo Un esplosivo Ma il gioco Non prevede Questa cosa Dove riesco a salire Ah sì È un po' Sì sul salto È un po' macchinoso Devo dire Ok abbiamo La possibilità Di aprire Anche qua E qua si va Poi a recuperare Il data storage Perché l'obiettivo Se premiamo M È trovare Un disco dati Quindi il disco dati Lo troveremo Probabilmente qui La storia Dovrebbe garantire Una ventina di ore E calcolando La tipologia di gioco È assolutamente notevole Dal mio punto di vista E sono morto Malissimo E da adesso in poi Che appunto Ogni mezzo Ogni persona morta È un punto in meno Nel personale restante E questo vale Per tutti Intanto lui Posso farlo uscire Dalla zona qua Li faccio magari Riattivare questo E ha solo la pistola Lui Poi nel corso Delle prime missioni Si trova anche il Ah ma qua c'è qualcosa Qua c'è qualcosa Che non ho mai visto Perché c'è qualcosa qua E ovviamente Quando non possiamo Arrivareci noi Dobbiamo richiamare Altro tizio Che però adesso È in colonia Lì sotto Tra l'altro Se noi ce lo dimentichiamo In giro Possiamo tenere ad occhio Da qua sotto Le varie persone E mi è capitato Più di una volta Di Non farci caso E alla fine Scoprire che Riprendendo in mano Il personaggio Che era morto Quindi Usa la sfera scanner Per folgorare i nemici Ok Col tasto B Vedete Noi la possiamo lanciare Quella che vi ho fatto vedere Prima Ma ha la peculiarità Di consumare un po' Più di energia Nel movimento Ma di folgorare i nemici E quindi Liberarci un pochino La strada Qua sotto Ci libera un po' La strada E poi Finisce Ragazzi Questo era Hidden Deep È un gioco È un gioco fighissimo Lo proveremo in live Sicuramente Magari anche in cooperativa Per intanto Fatemi sapere Che cosa ne pensate Qua sotto Nei commenti Alla prossima ragazzi E ciao ciao La strada